Dopo qualche giorno d'attesa è arrivata la definitiva comunicazione da parte della regione siciliana sulla riconferma direttore del Museo Archeologico Regionale di Gela dell'architetto Ennio Turco. La notizia si inneste in un momento in cui è in corso la rimodulazione dei musei e delle aree archeologiche dell'isola. Che cosa cambierà? Ne abbiamo parlato con il direttore che resta alla guida di una delle risorse più preziose di Gela e del suo comprensorio. La regione siciliana ha fatto una riorganizzazione di tutti gli uffici del bene culturale e anche Caltanessette ha avuto questa modifica. Si tratta un po' sia per quanto riguarda l'assetto organizzativo ma perché è finalizzato al risparmio un po' e a ottimizzare quelli che sono i rapporti istituzionali tra i vari enti. Nello specifico il Museo di Gela viene accorpato con il Museo di Caltanessette appunto facendo questo polo regionale. Ora ancora i decreti non ci sono quindi non possiamo parlare precisamente di come verranno dislocate i servizi e come sarà organizzata la struttura. Però come si immagina la regia sarà qui a Gela avremo noi un'unità operativa a Caltanessette e quindi ci sarà sicuramente un indeccio tra Gela e Caltanessette e spero che ci porta solo un apporto migliore e fattivo. I visitatori che verranno al Museo di Gela potranno godere di un biglietto unico con le aree che si possono visitare a Caltanessette o ancora questo passo non è stato compiuto? Questo ancora è da venire. Caltanessette è anche una città anche greca perché Sabucina è stata fondata dai geloi che attraverso il fiume Salso sono risaliti fino ad arrivare al guado tra Sabucina e Capodarso e quindi voglio dire una linea c'è. Questa è una cosa che forse lo sanno solo gli addetti ai lavori, lo dobbiamo far sapere al mondo intero. Poi quando riguarda il biglietto intero è il biglietto unico, questo lo vedremo con il Dipartimento che ci darà sicuramente dei ragguardi. Quali sono i progetti, le idee che intende mettere in campo? I progetti ne abbiamo tanti, tra cui tre che già a prescindere del polo museale, il Museo di Gela sta portando a mano. Uno, la ristrutturazione del museo esistente, che si tratta di un progetto con fonte economiche europee, con un PON, che è più di 3 milioni di euro. Quindi nel giro di qualche anno noi avremo la ristrutturazione di questo museo esistente. E poi ci sono altri due progetti, uno sulla valorizzazione di capo soprano e dell'agropolo e uno sul Bosch Collettorio. Questi come progetti che noi già a prescindere di questo polo noi stiamo portando avanti.